Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questo fin settimana in città e sull'area metropolitana il dispositivo dei controlli volti a verificare rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid. In totale tra venerdì e domenica sono state controllate su tutta la provincia 588 persone e 130 attività commerciali, 16 le sanzioni complessive. Molteplici sono stati anche gli interventi coordinati dalla sala operativa per il controllo della Movida, tra il Centro Storico e il Lungomare e il Vomero, in cui le fiamme gialle hanno invitato le persone ad indossare correttamente le mascherine e a sciogliere gli assembramenti. Nel quartiere Gianturco sono stati sottoposti a sequestro 2.500 flaconi di gialligenizzante per le mani privi di qualunque etichetta o certificazione di conformità ed è stato segnalato alla Camera di Commercio un 26enne di origine cinese per violazioni al codice del consumo. Nell'area metropolitana la compagnia di Castellamare di Stabia ha sanzionato sul Corso Garibaldi una cartolibreria all'interno della quale si erano formati degli assembramenti ordinando la chiusura provvisoria per 5 giorni mentre in via Nunziatella ha sequestrato 1.300 mascherine chirurgiche. Le compagnie di Giuliano in Campania e Torre del Greco rispettivamente a Qualiano e nella medesima città corallina hanno invece sanzionato 4 giovani, 2 nel primo caso perché sprovvisti della mascherina, gli altri 2 poiché sorpresi in strada senza giustificato motivo. E ancora il secondo gruppo in servizio nella zona del porto di Napoli adibita agli imbarchi per le isole del Golfo ha notato un giovane diverso a terra nelle prossimità della biglietteria. Il ragazzo, un 29enne di Arcore, che aveva fatto perdere nei giorni scorsi le sue tracce, era apparso da subito in stato confusionale e si trovava in crisi insulinica. I finanzieri hanno quindi attivato il 118 che lo ha trasportato all'ospedale dei Pellegrini per le cure del caso e sono riusciti a contattare i genitori. Inoltre, come spesso succede dai controlli anti-covid, sono emerse anche situazioni illecite tipicamente di interesse delle fiamme gialle come il persistente fenomeno di contrabbando di sigarette. A riguardo sono stati sanzionati complessivamente 7 soggetti, di cui 5 denunciati a piede libero e sequestrati circa 10 kg di sigarette di contrabbando. Anche nell'area metropolitana le compagnie di Torre del Greco, in via Falanga, ha sequestrato 2,2 kg di sigarette di contrabbando denunciando un quarantenne del luogo.